e basta ragazzi sono tarcciato ci sono un questionessimo backstage dei free allora abbiamo fatto una scena in casa però abbiamo fatto sì un po di backstage e poi vedrete delle clip ma non ho fatto l'intro la perché niente adesso dobbiamo fare una scena al parco e praticamente niente posso faccio le clip qua la clip della intro del backstage qua e niente siamo nel backstage qui c'è la produttrice dobbiamo girare la scena abbiamo uno scivolo siamo un parco diverso abbiamo il nostro tecnico che ci monta l'attrezzatura bravo tecnico niente ragazzi vedremo delle clip a caso questo qui è il day free di backstage ora ci prepariamo a fare la scena niente bella no lì servirebbe una fill light quello al punto aspetta ma aspetta no aspetta aiuto aspetta come che ci cade addosso la lampada aspetta non vedo si è saltata la lampada al buio tra un po' ci cade la lampada in testa e non va più quindi non abbiamo la lampada si sta registrando a caso non lo so che preferisco non è una buona fill light è bianna è stata la luce tutta sì ma quella lì è gialla perché l'hai tolta la lampada sì ma se abbiamo la luce bianca non ce l'abbiamo la luce bianca non ce l'abbiamo la luce bianca questa è la luce bianca mi sembra è saltata la luce genio bene ragazzi è saltata la luce voi non state vedendo un cazzo però è saltata la luce e questo è bello ed è sparita gente davvero è sparita gente ho gli uso 1250 e io sto scrivendo in inglese allora per mettere amica che siamo nel mezzo di un block out amica amica si amica non credo proprio ma che scrivo un altro telefono mi serve la torcia arriva l'iphone 6s però non so dire il mio iphone è messo il minico e devo scrivere a Maria una cosa mi serve vai fermo stop abbiamo concluso la scena buona si buona buona alla fine di questa scena c'è un backstage con pc quello che sta qua e qua abbiamo gli iphone che ci fanno da light che adesso imploderanno le batterie e io sono senza occhiali perché ho scoperto che vedo meglio il display della camera bella e bene ragazzi questo day free per il backstage di no limits è finito oggi fail scena 3 dobbiamo rifarla tutta la prossima volta però vabbè dettagli e no entrati in una casa da un buio poi fa troppo buio quindi dobbiamo rifarla perché fa troppo buio qui c'è c'è un qualche mela noi ci vediamo nel backstage 4 tra sempre settimana prossima e nulla vuole che la inquadri Miss Italia qui c'è qualcun altro ciao e niente lasciate like iscrivetevi e bello ragazzi